letta l'Isola di Ischia come un dipinto del Settecento Napoletano, le sue bellezze, eccetera, lui ci parla dell'Isola di Ischia come oggi. E poi la storia, quindi, dove si incatena l'Isola di Ischia con i suoi personaggi e anche tutti gli eventi. E poi la storia fa capolino tra le pagine di quella che viene definita l'Ucronia. L'Ucronia sarebbe per mescolarsi sapiente di storia e storie pubbliche e private che risponda all'eterno interrogativo. Che cosa sarebbe accaduto se i fatti fossero arrivati in maniera diversa? Quindi i commissari che ritroviamo in questi libri, il commissario Settecentese, Ranieri, Lanziano, James, Winterwood, sono ormai personaggi note al pubblico e sono inventati personaggi di famiglia perché alcuni di questi li troviamo nei suoi libri. E sì, e anche Andrea, diciamo, quindi sono dei personaggi di famiglia come è anche Andrea un personaggio di famiglia perché io lo reputo una persona molto gentile e anche raffinato perché il suo modo di scrivere è anche molto molto raffinato. Nelle sue pagine troviamo, nei suoi libri, anche il passato, il piccolo comune di Forio, l'Isola di Ischia, come dicevo prima, non vista più come una cattolina latinata da far vedere ai turisti, ma le ambientazioni sono quelle dove si muovono i personaggi del crime novel. Le romanzi, come nelle nostre vite, nei romanzi di esposito, i personaggi si mischiano, si compondono. Lo schema non è più riguardi e controllati, buoni contro cattivi, dove alla fine vengono sempre gli eroi. Il commissario Senese e anche l'Ispettore Carbone non sono né eroi né feccia, vero? Sono una categoria a parte, fatta di personaggi tragici con la loro carica di malità, dei loro tanti difetti e quanti ne hanno, nei problemi della loro vita e negli errori che cercano poi di risolvere. personaggi per i quali la redenzione ha un costo altissimo, non scelgono mai quasi il meglio di sé, a volte lo fanno per paura, per convenienza, dubitano, si incavolano, amano, si appassionano, spesso tradiscono e cercano anche di impararsi il posteriore come possono. Altre volte invece dimostrano coraggio, altruismo. Quindi questi sono, diciamo, i personaggi che fanno parte dei loro libri. Sono personaggi che alla fine libro, col libro che amiamo, impariamo anche ad amare, vero? Così come, ripeto, io vorrei, e in questo voglio anche chiudere, vorrei che Andrea fosse amato ancora di più, perché lo merita, perché veramente non bravo a Gior, come si dice qui, e merita veramente il grande successo, perché lo posso dire, leggendo questi libri non sono seconda a nessuna, neanche a chi le rene e gli altri, veramente, anche per pensare che sarebbe un vanto per l'isola di schia, per sentire un giorno leggere sulle pagine dei giornali che Andrea ce l'ha fatta. E quindi da qui da, speriamo che sia il via per i grandi successi che tu sicuramente meriti. Grazie. Ora faccio subito la parola al mio carissimo amico Gaetano. Gaetano, come dicevo prima, che lo ce lo presenterà, ci introduirà anche, diciamo, nelle pagine, poi ci sarà anche la lettura di qualche piccolo, di qualche piccolo brano. Ringrazio ancora Gaetano e ora ti passo così a parte.